Buonasera a tutti, restiamo in tema di essenze floreali visto che anche un argomento un po' nuovo per le nostre puntate. L'altra volta abbiamo esaminato un'essenza floreale dei fiori di Bach, questa sera invece vorrei parlarvi dell'essenza floreale dei fiori australiani e più precisamente del Callistenum linearis. Il Callistenum linearis ha un nome un po' anche particolare, non cresce nelle nostre zone ma è una pianta caratteristica delle pianure australiane, è una pianta arbustacea ed è della famiglia delle mirtacee, ha un fusto eretto che può raggiungere i 2-3 metri di altezza, delle foglie verdi e un caratteristico fiore che è di colore rosso vivace e ha una forma che sembra tutta piena di piume, piumoso si definisce. Diciamo che, passatemi questo esempio, assomiglia molto a uno scovolino gigante, è proprio da questi scovolini giganti, da questi fiori rosso purpuri che viene estratta l'essenza floreale del Callistenum. A cosa serve il fiore australiano del Callistenum? È un classico fiore che serve per l'adattamento al cambiamento, quindi possiamo utilizzarlo per tutto ciò che consiste un cambiamento nella nostra vita, sia cambiamenti materiali come può essere il cambiamento di casa, il trasloco, il cambio del letto o tanto, non so, potrebbe essere il cambiamento scolastico di ambiente, di compagni, di insegnanti nuovi, ma anche il cambiamento fisico, per esempio il ragazzo che va nell'adolescenza e deve far fronte a un cambiamento, a una maturazione sessuale del proprio fisico, oppure la donna che è in gravidanza, la trasformazione accettata del proprio fisico o ancora la persona che va in menopausa, deve accettare diciamo la trasformazione fisiologica che subisce. Questo fiore è un buon adattogeno, ci aiuta proprio ad avere fiducia in noi stessi e ad affrontare queste nuove situazioni con molta più serenità e prontezza. I fiori australiani non sono nocivi, si possono utilizzare come i fiori di bacca anche nei bambini piccoli. Il callistenum ha anche la caratteristica che può essere utilizzato con buon successo anche nelle piccole patologie da colon irritabile, quando però la patologia viene causata generata diciamo da una situazione emotiva che non riusciamo ad affrontare con serenità. In questi casi utilizzando il fiore australiano sette gocce dalle due alle tre volte al giorno possiamo risolvere il problema senza l'utilizzo di farmaci più importanti. Arrivederci e buona serata.